Adriano Giannini, chi è la moglie famosissima? Adriano Giannini è diventato celebre per la sua carriera ed il suo impegno sul set. Nato in una famiglia già molto nota nel mondo del cinema, con il padre Giancarlo Giannini conosciuto a livello internazionale, Adriano è piuttosto riservato in merito alla sua vita privata ed infatti in pochi sanno chi sia sua moglie. Ebbene, la donna che è al suo fianco da tanti anni appartiene ad un'altra nota famiglia italiana ed è Gaia Trussardi. Nata nel 1980, come si può dedurre dal cognome fa parte della celebre famiglia Trussardi, ed i suoi fratelli sono Beatrice e Tommaso. Quest'ultimo è stato molto chiacchierato soprattutto negli ultimi anni per via del suo matrimonio con Michelle Hunziker, che poi si è purtroppo concluso. Gaia ha studiato sociologia a Londra e ha dimostrato molto talento e passione per alcuni campi lontani dalla moda. Alla fine però, ha iniziato a lavorare nell'azienda di famiglia insieme ai fratelli Tommaso e Beatrice nel ruolo di direttrice creativa. Al momento infatti si occupa di gestire la linea Trussardi e Trussardi Jeans. Purtroppo nella vita di Gaia Trussardi c'è stato anche un grave lutto, perché suo fratello Francesco ha perso la vita nel 2003. Per fortuna la famiglia, nel tempo, è riuscita ad affrontare la perdita. Prima di incontrarsi, sia Adriano Giannini sia Gaia Trussardi si erano lasciati alle spalle delle storie importanti. Giannini infatti è stato per lungo tempo legato ad una ristoratrice di nome Maria, originaria di Genova, con cui ha anche convissuto per qualche anno fino alla separazione. Invece Gaia Trussardi ha incontrato l'imprenditore Riccardo Rosen durante i suoi studi a Londra. I due si sono sposati nel 2006 e hanno avuto due figli, Nicola e Isabella, ma poi si sono separati dopo dieci anni. Nel 2017, Gaia e Adriano si sono incontrati per la prima volta e tra loro è scoppiato un grande amore che va avanti ancora oggi. Nel giugno del 2019, i due hanno parlato ai giornali della loro bellissima storia d'amore. La rivista che ha annunciato che i due stavano per convolare a nozze sull'isola d'Elba, cosa che poi effettivamente è successa. I due hanno scelto un party top secret, con le persone più care invitate. Ad oggi, non hanno ancora avuto dei figli e probabilmente non li avranno. Sono una coppia molto felice che tiene alla propria riservatezza. Voi che cosa ne pensate? Sapevate chi fosse la moglie di Adriano Giannini e vi piace questa coppia? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti. Ciao! 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 Ciao!